ma si è bello ma no 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 hai papi da rinan hai terni susah komettima quara hai 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 foto hai 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 ok kita masuk ke video reaksi yang kedua Hai ini titola Ago! Ago! Mare, mare, mare Poi, trappi, trappi Mare, mare E se non sa te nemmo? E so qua, ma E toco, e toco Kill Ago! Eeeh eeeh Ieee Inh ni xat dikembannya sa nge sebe keteran Da bai sa eo ca eo ta eo ta eo yo Ii ni Ayo Iii Iii ah ma che mi amore, che mi amore, che mi amore, che mi amore, che mi amore la banada, bolo muonete, mi pezzi eee shhh eee 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 aaaaaa che buono, mire chi è meglio? oh! e non sembra la terra che era? ah, sono sempre spera, spera, spera mati no, no, no no